Salve a tutti ragazzi dal vostro bomber Jimmy J Fingalanda 3 ragazzi oggi siamo nuovamente sul canale attenzione ragazzi temis non so se lo conoscete ragazzi sì ragazzi allora sì è stata una cosa terribile ragazzi vederlo l'ultima volta giocare nella WWE adesso è scompasso ragazzi temis non so se lo conoscete sì ragazzi a parte il mio viso che è un po' sì distrutto da un sabato sera incredibile ragazzi volevo parlarvi di un contest che ho fatto circa 2-3 settimane fa più o meno allora stiamo parlando di Minecraft ragazzi il contest ho fatto un video ben preciso mi sembra ragazzi però quando sembra neanche i muri porca santa miseria lo ascoltano allora sì ragazzi almeno il muro come posso chiamarlo Jack e Jack sì mi ha ascoltato ragazzi dopo andremo a prendere un caffè ragazzi il contest il contest su Minecraft avevo detto che forse terminava a fine giugno ragazzi allora ho deciso di spostarlo 2 settimane più tardi ovvero a luglio anche se gli impegni iniziano a sovraccaricarsi ragazzi qualunque cosa possibile la fine giugno proprio l'ultima settimana ragazzi ho una montagna di cose da fare tipo pensate all'Iverest ragazzi è così ragazzi una montagna da scalare ho un po' di cose da fare nella settimana nell'ultima settimana nel giugno quindi direi che il contest terminerà la seconda settimana di luglio ovvero possiamo dire il 10 luglio ragazzi anzi possiamo dire il 15 luglio anche perché in quel periodo devo essere a forza devo essere presente a casa perché ho un impegno anche su un sito dove sono moderatore ragazzi val che non hai più tempo poi ti metti a disposizione di un sito dove devi fare il moderatore devi inserire le puntate gli episodi della WWE non facciamo nome ragazzi se no tagliare tagliare ok ragazzi i contest come sapete funzionano in quel modo ragazzi ovviamente se voi scrivete iscritto e partecipa al contest sotto il video va bene anche sotto questo d'aggiornamento ragazzi speriamo di non farlo lungo oppure vi lascio il video in descrizione magari nei commenti dal contest di minecraft e potete scriverlo anche là allora ragazzi mettiamo caso che siete 50 alla seconda settimana di luglio allora voi dovete condividere con tutti i vostri amici sulle vostre pagine facebook o sui vostri profili facebook google plus quello che volete ragazzi basta che condividiate anche su twitter google plus soprattutto ragazzi così io lo vedo perché ci sono alcuni che hanno iscritto iscritto e partecipo però nella lista degli iscritti non ci sono ragazzi non so se youtube sta combinando qualche casino porta miseria della serie ragazzi la devo cambiare devo comprare quella dei youtuber più famosi il testo ragazzi di solito si vede da dietro e comunque discorsi a parte l'estrazione del contest ragazzi avverrà uno o due giorni dopo che è terminato il contest ovvero il 15 luglio sì ragazzi questa è la data perché in quel periodo sono a casa sicuramente a meno che non mi invitano al mare però a me non piace tanto quindi ragazzi come sempre ho detto lasciate un like commentate tutti i miei video dategli un'occhiata così mi fate capire che mi state seguendo sì non faccio lavoro niente ma inoltre ragazzi mi suggerisco qualcosa da fare su FIFA 15 qualche challenge oppure su Minecraft ragazzi anche se sto aspettando un mio amico per fare una serie insieme perché sinceramente da solo non so dove sbattere la testa quindi direi che se la sbattiamo se siamo in due a sbattere la testa forse combiniamo qualcosa ragazzi parte finale del video il contest io terminerai 15 luglio ragazzi già detto stai zitto per favore ok mi raccomando lasciate un like a questo video commentate andate sul contest iscrivetevi e partecipate ragazzi se volete condividere con tutti i vostri amici sulle vostre pagine Facebook sui profili Google Plus Twitter magari se avete anche un canale YouTube fate fate girare l'oggi insomma ragazzi come ho detto non faccio questo contest per solidarietà sì nei miei confronti ragazzi attenzione perché mi piace che uno di voi possa vincere il gioco e che io dai sia più seguito nel mondo YouTube quindi ragazzi mi sa che e mi raccomando non pensate male perché io non lo faccio percepere più iscritti più visualizzazione ovvius ovvius ragazzi ci becchiamo alla prossima da Jimmy J. Fring l'andate ragazzi se non avete capito un piccolo secco basta seguire le istruzioni oppure commentare sotto il video oppure contattatemi tramite i link che trovate in descrizione ragazzi ciao 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 ciao